Jane Alexander ed Elia Fongaro, una delle coppie che si sono create nel corso del Grande Fratello VIP 2018 Entrambi sono fuori dalla casa più spiata d'Italia dopo la loro eliminazione, e gli amanti del gossip vogliono cercare di capire se i due possano considerarsi una vera coppia o meno Jane ha sempre espresso sia verbalmente che fisicamente i propri sentimenti nei confronti di Elia, e dopo essere stata eliminata dal reality, ha salutato ufficialmente il suo ex fidanzato, Gian Marco Amicarelli L'ex velino di Strescia la notizia, invece, non è mai stato chiaro su ciò che provava nei confronti della rossa Jane, e più volte ha cercato di sviare domande precise sui suoi sentimenti Una situazione che si è ripetuta anche poco fa, negli studi di Domenica Live, dove il Fongaro era ospite, e dove è stato incalzato dalla padrona di casa Barbara D'Urso Elia e Jane, è amore Elia parla così del suo rapporto con Jane, per quanto fosse surreale la situazione e non ordinaria, abbiamo fatto i passi che andavano fatti, Jane ha chiarito la sua situazione con l'ex, e quindi adesso, nonostante tutto quello che ci hanno detto in queste cinque settimane, nonostante il fango che ci hanno gettato addosso, possiamo tranquillamente conoscerci e capire cosa potrà esserci tra me e lei Quindi Barbara chiede per l'ennesima volta ad Elia se sia o meno innamorato di Jane Il modello dagli occhi azzurri replica così, è ancora presto per dare una risposta, per poi aggiungere, io continuo a ritenere che il sorriso sia la miglior risposta, non ho bisogno di convincere nessuno, adesso avremo modo di conoscerci Il discorso di chiusura è comunque molto convincente, posso solo dire una cosa, sto molto bene, sono contento, sono felice che sia uscita, mi fa stare molto bene e mi tranquillizza, e quindi voglio continuare a stare bene con lei Più chiaro di così Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like